Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qua sul canale. Oggi, come vedete, siamo un po' più bardati, perché le stagioni finiscono, per fortuna, e noi ci siamo ancora. Le stagioni finiscono e le stagioni cominciano. Cominciano, quindi una nuova stagione invernale. Un po' fresca. Un po' fresca. Già, no, in realtà ancora non è proprio inverno. Ci sta, ci sta. Oggi ragazzi, Montefiocca e Montesumbra. Montesumbra e Montefiocca. No, prima il Fiocca e poi il Fumbra. Prima il Fumbra e poi il Fiocca. Ci ho capito un cazzo, come sempre. Non partiamo bene per niente. Partiamo da Arnie adesso. Abbiamo impostato ora giusto i GPS e siamo pronti a partire. Yaris mi ha già fatto freddo e freddo. Buono, mi sembra perfetto. Dai, dai, si può partire, ho le mani ghiacciate. Grazie. 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 Buono, mi sembra. Stai attento qui. Stai attento qui. E anche di qua siamo messi... Porca troia. Non so, dove si deve andare? Ah, giù di qui. Buono. Vai. Allora, questa è mezza posta. Stai molto attento. Tra, tra, tra. Poi si torna indietro, su e dietro. Boia. Azz. Molto bella questa vasta. Sulla, 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 sulla cresta di sicuro. Sì, sì. Eccolo lì, il nostro obiettivo. E qui c'è l'altro obiettivo. E qui c'è l'altro obiettivo. E qui c'è l'altro obiettivo. Oh, che peccato. Questa che ho visto. La moto è via. Sì, sì. La moto è via. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Allora, qui calma, eh. E dall'alta montagna all'asfalto è un baleno. Per voi, per noi non tanto in realtà, perché di chilometri ne abbiamo fatte abbastanza. Circa sei. Non vi abbiamo annoiato con tutta la strada bianca della cava. Visto che appunto in queste zone ci sono tante cave. Sono tutte uguali, più o meno. E quindi io almeno tutte le scime oramai, quelle più importanti, attrezzate, le ho completate del comprensorio a pane. Allora, a questa simpatica persona gli manca la peggiore. Se non avete visto appunto il video del contrario, ve lo metto qui sotto in descrizione, così almeno vedete quello che gli manca a lui. E poi magari potete anche scrivere se, secondo voi, è fattibile che lui riasca a farla. Comunque. C'entro io, scusami, eh. No, no, nulla, nulla. Tu sei te, quello. Stavo sendo doloroso. Io sono così. Io sono un co-protagonistico, così, un aiutante. Una comparsa. Una comparsa. E vabbè. Quindi nulla, ragazzi. Ora, come al solito, stretching. E c'è una macchina. Ok? No, è quello di prima. Stretching e torniamo a casa. Grazie mille per aver visto il video. Se non vi siete iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi. Attivate la campanellina, così almeno rimanete aggiornati su tutti i prossimi video. Bella, ciao! Ciao!